E' bella ragazzi, io sono Gamby e oggi siamo su Rocket League che è tipo un gioco di calcio, molto simile, anzi no, è un gioco di calcio, solo che al posto di usare i piedi devi usare queste macchine grosse e belle, con sopra il mouse. Praticamente ragazzi, io a sto gioco ci giocavo all'incirca un annetto fa e niente, voglio provare a vedere se sono ancora schillato o non tempo. Ci faranno un culo della madonna. Ragazzi, siamo offline perché mi è scaduto il PlayStation Plus e siamo contro Sabretut. Frate, come stai? Tutto a posto? Wow, e me lo suoca tutto. Ragazzi, gioco in duo perché in singolo mi fanno un culo della madonna. E siamo contro un hater, perfetto. Abbiamo cominciato bene. Samara. Samara. Ragazzi, questa qua è uscita da deriva. Eh, lo sapevo. Samara, non ti incazzare, eh. La mia! Bastardo. Vai Samara, gli dobbiamo fare il culo strisce. Ecco, ho visto come sono forte. Samara, passamela in mezzo. Samara, in mezzo, in mezzo. Samara. No, non lì. In mezzo, Samara. Così intende... Ecco, non proprio così. Porta vuota. Porta vuota. E fa gol. Samara. Quanto forti. Minchia, ragà, facciamo un filo. Facciamo dei ring e quattro. Oh, la madonna. Che parata ha fatto... Che parata epic ha fatto, Samara. Vai, 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 vai. Mia! Ragazzi, c'ho una mira per la porta che mica Ronaldo spostati proprio. Samara, che cazzo stai a fa'? Aglio. Dai, Samara! Brava, donna! Ragazzi! Minchia, l'hanno fatta giocare nell'Inter, questa donna, perché... Porca puttana. No, ragà, questa era bella, eh. Quanto forte questa donna! Quanto forte! Ah! Fa hater di merda! Ma Vex è una... Ma vaffanculo! È diventato un autoscontri, sto gioco, raga. Ragazzi, riproviamo un'altra, perché sono tutto gasato. Prima con Samara abbiamo fatto i Cugliastrisce. Kasper. Ragazzi, ci abbiamo contro un fantasma. Che bello! Ah, Kasper! Vaffanculo, questo qua usa i trick. Usa le hack, raga, usa le hack! Faccio io. Ecco, ho visto come ho fatto bene. Ragazzi, proviamone una squadra, perché credo sia una cosa tipo troppo figa. Ragazzi, abbiamo il mago Merlino nella nostra squadra. Merlino, fammi una magia! Ecco, hai visto. Vai a Kogar, vai. Grazie, Merlino, sei stato utilissimo. Poi, ragazzi, di squadra abbiamo anche gente come Caveman. È il nuovo nemico di Dragon Ball, ragazzi, oltre che Freezer. Comunque, ragazzi, devi notare che gli haters ci sono sempre. E' un mazzo. Grande, Mirto, l'assist. Non si sa come ho fatto, però va bene così. La gigio io! Ecco, hai visto come l'ho gigiata bene? Ragazzi, facciamo l'ultima, perché basta. Cioè, ci stanno facendo un culo tanto. Oh! Ma dai, ma che palle! Ma è una volta che mi esce un gol decente. Raga, parala. T'ammazzo! T'ammazzo! Come si fa a essere così incoglioniti, raga? Ma dai! Come ha fatto a non pararla quella palla? Ma cos'è? Faccio io! Quanto sono forte! Ma do, rega, la proaggine qua! Grazie, Sabretto! Pia al culo! Dai, 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 dai! Che buona, dai, che buona! Fate gol! Vai così! Vai! Vai che buona, vai che buona, vai che buona! Vai bene! Ma do, rega, che squadra! Che squadra! Quanta proaggine in una sola partita! Quindi ragazzi, io direi che possiamo concludere qua col video Anche perché se non la smetto di urlare I vicini vengono a prendermi con le forche Se le mie prestazioni dal Cristiano Ronaldo vi sono piaciute Lasciate un big like Commentate, condividete Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Ci vediamo in un prossimo video Bella!